rettando le rette in mare non si sarebbe potuto pescare più di una mezza dozzina di giovani secondi pronti e preparati quanto gli ux e sebbene gli fosse stato colto alquanto di sorpresa dalla stupefacente violenza della prima raffica si era ripreso all'istante aveva chiamato gli uomini e si era affrettato a impartire l'ordine di chiudere sui ponti tutte quelle aperture che non fossero già state ben fermate in precedenza urlando con la sua voce fresca e stentoria forza ragazzi date una mano si era messo alla loro testa dicendo a se stesso nel frattempo che si aspettava qualcosa di simile ma nel contempo diveniva sempre più consapevole del fatto che quanto accadeva era più di quanto si fosse aspettato sin dal primo soffio d'aria che aveva sentito sulla gota la burrasca sembrava assumere l'impeto accumulato di una valanga massicce sventagliate di spruzzi avvilupparono il lancian da prola poppa e all'istante nel bel mezzo del suo regolare rollio il piroscafo incominciò a biccheggiare tuffandosi come se fosse impazzito di paura Yux pensò questo non è uno scherzo mentre stava scambiando ulli esplicativi con il comandante un calare improvviso delle tenebre persuase la notte interponendosi dinanzi al loro visuale come un chiedi palpabile era come se tutte le luci indirette del mondo fossero state spente Yux fu lieto senza riserve di avere al fianco il capitano provò una sensazione di sollievo come se quell'uomo semplicemente venendo in plancia si fosse caricato sulle spalle quasi tutto il peso della tempesta tale è il prestigio il privilegio e il fardello del comando il capitano McQueer non poteva aspettarsi un sollievo analogo da nessuno al mondo tale è la solitudine del comando si stava sforzando di capire in quella maniera guardinga del marinaio che fisso il vento negli occhi come se fossero gli occhi di un avversario di penetrare le intenzioni nascoste e di indovinare la direzione e la forza del colpo il forte vento si scagliava contro di lui da una vasta oscurità egli sentiva sotto i piedi l'inquietudine della nave e non poteva nemmeno discernere l'ombra della sua sagoma si augurò che non fosse così e aspettò del tutto immobile sentendosi pervaso dall'impotenza di un cieco la cera gli era con naturale facesse buio o splendesse il sole Yux accanto a lui si fece udire urlando allegramente tra una raffica e l'altra dobbiamo averne preso il peggio subito signore un fioco prorompere di lampi vibrò tutto attorno quasi fosse balenato in una caverna in una nera e segreta cavità del mare la cui volta fosse costituita da creste spumeggianti quel chiarore svelò per un momento sinistro la fluttuante l'ansera massa di nubi bianchissime il rollio dei lunghi contorni della nave le nere sagome degli uomini sorpresi sul ponte a testa bassa quasi pietrificati nell'atto di cornare le tenebre tornarono ad abbassarsi palpitando su tutto ciò e poi il vero tifone arrivò finalmente fu qualcosa di formidabile di fulminio come l'improvviso fantumarsi di una fiala di collera parve esplodere tutto intorno alla nave con un tuono travolgente e un impeto di enormi ondate quasi che una diga immensa fosse crollata a sopravvento in un attimo gli uomini perdettero il contatto gli uni con gli altri è questa la forza disgregatrice di un gran vento isola l'uomo dai propri simili un terremoto una frana una valanga travolgono gli sfortunati incidentalmente senza passione per così dire una burrasca furiosa li attacca come un amico personale cerca di afferrarne le membra si getta sulla loro mente si sforza di porre in rotta il loro stesso coraggio Yux venne trascinato lontano dal comandante fantasticò di proiettare a grande distanza nell'aria tutto scomparve persino per un momento la sua capacità di pensare ma con una mano aveva trovato un montante del parapetto il suo sgomento non venne minimamente alleviato dalla tendenza a non credere alla realtà di questa esperienza sebbene giovane aveva veduto qualche maltempo e lui non vi erano mai stati dubbi sulla propria capacità di immaginare il peggio ma questo superava a tal punto le capacità della sua fantasia da sembrare incompatibile con l'esistenza di qualsiasi nave avrebbe forse dubitato nello stesso modo anche della propria esistenza se non fosse stato così assillato dalla necessità di esercitare uno sforzo erculeo contro la forza che cercava di strapparlo all'appiglio per giunta il convencimento di non essere stato completamente distrutto tornò a lui per il tramite delle sensazioni di essere mezzo affogato scrollato bestialmente e in parte soffocato ebbe l'impressione di rimanere lì precariamente solo con il montante per molto molto tempo la pioggia gli si riversava addosso scorreva lo sversava a raffiche fitte come lenzuola egli respirava ad ansiti e a volte l'acqua che inghiottiva era dolce a volte salata quasi sempre teneva gli occhi ben chiusi come temendo che la sua vita potesse essere distrutta dal turbina immenso degli elementi quando si azzardò a battere rapidamente le palpebre derivò un certo conforto morale dal bagliore verde del fanale di dritta che splendeva affiocamente sulle raffiche di pioggia e di spruzzi lo stava in effetti guardando quando la luce del fanale cade sul maroso impennato dal quale venne spento egli vide la cresta dell'onda rovesciarsi lassù aggiungendo l'obolo del suo scroscio al frasuono tremendo che infuriava tutto intorno e quasi nello stesso attimo il montante fu strappato via dalle sue braccia che vi si avvinghiavano dopo essere precipitato con un tonfo stritolante sulla schiena venne a trovarsi improvvisamente a galla e lanciato verso l'alto la prima irresistibile riflessione di lui fu che l'intero mar della Cina si fosse lanciato sul ponte poi più ragionevolmente concluse di essere caduto in mare e intanto mentre continuava ad essere sbalestrato lanciato qua e là e fatto rotolare da grandi masse d'acqua ripetimentalmente con la massima precipitazione le parole Dio mio Dio mio Dio mio Dio mio di colpo in un empito di rivolta fatto di infelicità e di disperazione risolse follemente di uscire di lì e incominciò a dibattersi con le brazze e le gambe ma non appena iniziata questa miserabile lotta scoprì di essere impigliato in qualche modo con una faccia con un'impermeabile di cerata con gli stivaloni di qualcuno artigliò con ferocia tutte queste cose di volta in volta le perdette le ritrovò le perdette di nuovo e infine venne afferrato egli stesso nella stretta ferma di due braccia robuste restituì energicamente l'abbraccio intorno a un corpo solido e tarchiato aveva trovato il suo comandante rotolarono più e più volte intensificando la stretta a un tratto l'acqua li getta giù con un urto brutale e incagliati contro il fianco della timoneria da corto di fiato i coperti di lividi rimasero a barcollare nel vento e ad agguantarsi dove potevano yux uscì da questa esperienza alquanto inorridito come se si fosse sottratto a qualche offesa senza precedenti che avesse mirato a quanto esisteva in lui di più intimo e geloso la sua fiducia in se stesso era indebolita presa a urlare alla cieca all'uomo che sentiva accanto a sé in quelle tenebre infernali e lei signore e lei signore finché le tempie non parvero sul punto di scoppiargli eudin risposta a una voce come se gridasse da lontano come se gli urlasse stiziosamente da una distanza enorme l'unica parola sì altri marosi spazzarono di nuovo il ponte egli le ricevette indifeso proprio sulla testa nuda mentre aveva entrambe le mani impegnate nel reggersi il movimento del lanciang era stravagante il becchezzo sembrava impolente in modo spaventoso la nave si inclinava in avanti come se volesse gettarsi nel vuoto e ogni volta sembrava trovare un muro da urtare quando rollava si coricava capofitto sul fianco e veniva raddrizzata da un colpo talmente demolitore che Yux la sentiva vacillare come vacilla un uomo colpito da una bastonata alla testa prima di stramazzare l'uragano rullava e imperversava qua e là in modo gigantesco nell'oscurità quasi che il mondo intero fosse stata un'unica nera voragine in certi momenti l'aria scorreva contro la nave come se fosse stata risucchiata attraverso una galleria con una concentrata e compatta forza d'urto così grande che sembrava sollevarla completamente fuor d'acqua e tenerla in alto per un attimo mentre soltanto un fremito la percorreva da un'estremità all'altra e poi cominciava di nuovo ad essere sbalestrata come se fosse ricaduta in un calderone bollente Yux si sforzò di calmare il turbine dei pensieri e di valutare con freddezza la situazione il mare appiettito dalle raffiche più violente si risollevava e copriva entrambe le estremità del lancian con nive impiti di spuma che si ampliavano vasti molto al di là di entrambi i parapetti nella notte su quel lenzuolo abbacinante disteso sotto le tenebre delle nubi e dal quale emanava un bagliore bluastro il capitano McQuill riusciva a scorgere in momenti fuggevoli la vista desolata di alcune minuscole chiazze nere come ebano la sommità dei boccaporti gli accessi alle scale ermeticamente chiusi le sommità coperte dei vericelli il piede di un albero e la sua nave non poteva vedere altro la struttura intermedia coperta dal ponte di comando che sosteneva lui il suo secondo la timonaria chiusa dove un uomo manovrava la barra isolato là dentro insieme alla paura di essere spazzato in mare con tutto il resto in un solo grande schianto la struttura intermedia era come uno scoglio a metà marea investito dai marosi sulla costa era come uno scoglio discosto dalla riva con l'acqua che risaliva ribollendo che scorreva dappertutto che si riversava fuori a cascata percuotendolo tutto attorno era come uno scoglio nella risacca al quale si avvinghiavano naufraghi prima di mollare la presa soltanto che si sollevava ricadeva rollava in continuazione senza respiro senza tregua come uno scoglio che miracolosamente fosse andato alla deriva dalla costa per rollare in mare aperto il lancian veniva saccheggiato dalla tempesta con una furia insensata e distruttiva le velle di cappa strappate ai gerri di rinforzo i tendalini due volte ancorati e spazzati via il ponte completamente sommerso le cuffie protettive squersate i parapetti contorti i vetri dei fanali frantumati e due delle scialuppe di salvataggio da scomparse erano finite in mare senza che nessuno udisse o vedesse fondendosi si sarebbe detto nell'urto e nel soffoco dell'onda soltanto in seguito quando sullo sfondo del lampo bianco di un altro maroso che si scaramentava contro il piroscopo a mezza nave Jux intravide due grui di imbarcazione balzar fuori nere e vuote dalla tenebra compatta con un cavo di manovra appena revisionato che volava nel vento del bozzello rinforzato in ferro capriolante in aria si rese conto di quanto era accaduto a tre metri dalle sue spalle sporse la testa in avanti cercando alla cieca l'orecchio del comandante lo sfiorò con le labbra grande carnoso molto bagnato gridò in tono agitato le scialuppe se ne stanno andando signore e di nuovo udì quella voce forzata e fiocama con un penetrante effetto di placidità nell'enorme frastuono discordante quasi provenisse da qualche remoto punto dello spazio al di là dei neri deserti della burrasca di nuovo udì la voce di un uomo il suono esile indomabile cui si può far comunicare un'infinità di pensiero di risolutezza e di fermezza il suono capace di pronunciare parole fiduciose anche il giorno del giudizio quando i cieli cadranno e giustizia sarà fatta di nuovo l'audì e gli stava gridando come da molto molto lontano sta bene pensò di non essere riuscito a farsi capire le saluppe le saluppe di salvataggio dico le saluppe signore ne sono scomparse due la stessa voce a 30 centimetri da lui eppure così remota gridò ragionevolmente non ci si può far niente il capitano McQueer non aveva mai voltato la testa ma a Yux giunsero alcune parole portate dal vento che cosa ci si può aspettare aprendo su un varco in un simile è inevitabile che ci si lascia indietro qualcosa è logico attento Yux continuò a tendere l'orecchio non è di altro il capitano McQueer non aveva altro da dire e Yux poteva raffigurarselo più che vederne dinanzi a sé la schiena larga e tozza un'oscurità impenetrabile premeva sugli spettrali luccichii del mare Yux si sentì pervadere del triste convincimento che non vi fosse nulla da fare se il dispositivo di comando del timone non avesse ceduto se le immense masse d'acqua non avessero sfondato il ponte o frantumato uno dei boccaporti se non vi fossero stati guasti alle macchine e se fosse stato possibile mantenere la nave contro quel vento terrificante se essa non fosse scomparsa sotto una di quelle ondate spaventose delle cui candide cresse soltanto molto più alte della prora e gli riusciva a intravedere di quando in quando la sconvolgente visione sarebbe esistita allora una probabilità che il piroscopo uscisse dalla tempesta qualcosa dentro di lui parve capovolgersi facendo affiorare la sensazione che il Nanshan era perduto la nave è finita si disse con una sorprendente agitazione mentale come se avesse scoperto un significato inatteso in quella riflessione una di quelle cose doveva accadere inevitabilmente nulla avrebbe più potuto impedirlo ormai e a nulla sarebbe stato possibile porre rimedio gli uomini a bordo non contavano e la nave non poteva resistere quella tempesta era troppo impossibile Yux sentì un braccio cadegli pesantemente sulle spalle e a questo approccio rezi con molta intelligenza afferrando il suo comandante alla vita rimasero così allacciati nella cieca notte puntellandosi a vicenda contro il vento guancia guancia e labbro contro orecchio come due scafi legati prua contro poppa e Yux udì la voce del comandante quasi non più forte di prima ma più vicina come se incominciando a procedere al traverso dell'impeto prodigioso dell'uragano gli si fosse accostata apportando quello strano effetto di placidità come lo splendore sereno di un'aureola sa dove sono gli uomini domandò rigorosa ed evanescente con tempo vincendo la forza del vento e all'istante volò via da Yux Yux non lo sapeva si erano trovati tutti sul ponte quando il vero impeto dell'uragano aveva investito la nave non aveva idea di dove si fossero rifugiati tenuto conto delle circostanze era come se non fossero esistiti dato l'impiego che si poteva farne chissà perché il desiderio di sapere del comandante angustiò Yux ti occorrono gli uomini signore gridò apprensivo dovrai sapere dove sono asserì il capitano McQueer si tenga forte si tennero forte un'esplosione di furia scatenata una violentissima raffica di vento fermò letteralmente la nave essa si limitò ad ondolare rapida e leggera come la culla di un bambino per un terrorizzante momento di attesa mentre l'intera atmosfera si sarebbe detto passava oltre furiosamente allontanandosi ruggendo dalla terra tenebrosa il vento li soffocò e gli occhi chiusi intensificarono la stretta quella che a giudicare dalla potenza dell'urto sarebbe potuta essere una colonna d'acqua perpendicolarmente in corsa nelle tenebre cozzò contro la nave si infranse bruscamente e si rovesciò sul ponte con forza schiacciante dall'alto esercitando la pressione di un peso morto che seppelliva un frammento volante di quello sfacelo un mero schizzo li avviluppò in un vortice dai piedi a oltre la testa riempiendo loro con violenza le orecchie la bocca e le narici d'acqua salata fece mancar loro sotto le gambe torse loro fulminamente le braccia sfuggì rapido ribollendo sotto il mento dei due uomini li aperti gli occhi e si videro le masse di spuma sovrapposte davventarsi avanti e indietro tra quelli che sembravano i frammenti di una nave il lancian aveva ceduto come se si fosse conficcato sott'acqua anche i loro cuori martellanti cedettero dinanzi al colpo tremendo ma di colpo la nave tornò a balzar su nel suo disperato beccheggio quasi stesse cercando di strisciar fuori di sotto le proprie rovine i marosi i marosi nelle tenebre sembravano avventarsi da ogni lato per tenerla indietro dove avrebbe potuto perire però un chedi frettoloso nel modo con il quale veniva sbalestrata e un chedi feroce nei colpi che cadevano la nave era come una creatura viva dettata alla ferocia della folla terribilmente urtata percossa sollevata ricacciata in basso aggredita con balzi i capitano McQueer e Ux si sostennero la vicenda assordati dallo strepitio imbavagliati dal vento il grande tumulto fisico che percuoteva i loro corpi apportò come uno sfrenato sfoggio di passione un turbamento profondo nell'anima loro uno di quegli ululati selvaggi e spaventosi che a volte misteriosamente si odono passare in alto nello scroscio costante di un uragano piombò quasi fosse sorretto da ali sulla nave e Ux tentò di gridare ancora più forte riuscirà a resistere il grido divenne strappato dal petto fu non intenzionale quanto la nascita di un pensiero nella mente ed egli stesso non lo udì tutto si spense all'istante pensiero intenzione sforzo la vibrazione inaudibile si perdette nelle ondate tempestose dell'aria egli non aspettava nulla da esso proprio nulla e infatti quale risposta poteva essergli data ma dopo qualche momento udì con stupore la voce esile resistente nell'orecchio il suono tenue non domato nel tumulto gigantesco è probabile fu un grido soffocato più difficile ad afferrarsi di un bisbiglio e di lì a poco la voce tornò di nuovo sommersa dai vasti scrosci come una nave che lottasse contro le onde dell'oceano speriamolo gridò piccola solitaria inflessibile estranea alle visioni di speranza o di paura poi balluginò pronunciando parole sommesse la nave questo mai in ogni modo per il meglio yuk si rinunciò ma subito dopo la voce quasi avesse trovato all'improvviso la sola cosa capace di opporsi alla forza di una tempesta parve di acquistare energia e fermezza per le ultime grida spezzate continua a navigare i costruttori brava gente dobbiamo arrischiarsi le macchine Ruth è in gamba il capitano Equir tolse il braccio dalle spalle di yuk ed a quel momento smise di esistere per il suo secondo tanta fitta era l'oscurità yuk dopo il teso irrigidirsi di ogni muscolo si afflosciò completamente il rodimento di un profondo disagio esisteva gomito a gomito con una tendenza incredibile alla sonnolenza quasi che gli fosse stato percosso e tormentato fino allo stordimento il vento si impadroniva della sua testa e tentava di strappargli la dalle spalle gli indumenti pragni d'acqua erano pesanti come il piombo gelidi e gocciolanti come una corazza di ghiaccio che si sciogliesse rapprividi il brivido si protrasse lungo e con le mani convulsamente strette sull'appiglio si stava lasciando affondare ad agio nelle profondità della sofferenza fisica concentra la mente su se stesso in modo vano e ozioso e quando qualcosa lo spinse leggermente dietro le ginocchia per poco come si suol dire non sprizzò fuori della propria pelle vetandosi in avanti urtò contro la schiena del capitano McQueer che non si mosse poi una mano gli afferrò la coscia un momento di calma era sopravvenuto una minazzosa calma di vento come se la tempesta avesse trattenuto il respiro prima di imperversare ancora ed egli si sentì palpare dappertutto era il nostro uomo Yux riconobbe quelle mani così tozze ed enormi che sembravano appartenere a qualche nuova specie umana il nostro uomo era arrivato in planza strisciando carponi contro il vento e con il cocuzzolo della testa l'aveva cozzato contro le gambe del secondo immediatamente si era accovacciato incominciando a esplorare la persona di Yux dal basso in alto con toccatine prudenti che sembravano volersi scusare come si addice a un inferiore era un marinaio di 50 anni sgraziato basso di statura burbero peloso corto di gambe lungo di braccia simile a un vecchio scimmione aveva una forza immensa e quelle sue grosse e nodose zampe che si gonfiavano come rossicci guantoni da pugilato all'estremità degli avambracci pelosi maneggiavano anche gli oggetti più pesanti come se fossero stati giocattoli a parte i peri brizzolati sul petto l'atteggiamento minaccioso e la voce rauca non possedeva alcuno dei classici tributi del suo grado il suo buon carattere equivaleva quasi all'imbecillità gli uomini facevano con lui quel che volevano e non esisteva un sol briciolo di iniziativa nell'indole di lui che era facilona e loquace per questi motivi Hux lo aveva in antipatia ma il capitano McQueer con beffardo disgusto del secondo sembrava considerarlo un sotto ufficiale di primo ordine il nostro uomo si tirò su afferrandosi alla cerata di Hux prendendosi quella libertà con la più grande modellazione e soltanto perché vi era costretto dall'uragano che cosa c'è nostro uomo che cosa c'è gridò Hux spazientito che cosa poteva volere in plancia quell'impostore di un nostro uomo il tifone gli aveva scosso i nervi i rauchi urli dell'altro sebbene inintelleggibili sembravano lasciare intuire uno stato d'animo di viva soddisfazione non ci si poteva ingannare il vecchio scemo era contento di qualcosa l'altra mano del nostro uomo aveva incontrato il corpo di qualcun altro perché in ben altro tono egli incominciò a domandare è lei il signore è lei il signore il vento strozzava le sue grida sì urlò il capitano McQueer è lei vuoi vedi non ci si vedi attraverte le sue tu l'arguo di e lei i l'arguo di i